Immagina un ambiente sempre più inclusivo, che favorisca gli scambi culturali anche attraverso l'uso delle tecnologie. Un'idea potrebbe essere quella di lezioni svolte simultaneamente in diverse parti del mondo, consentendo ai vari studenti di interagire tra di loro. Credo inoltre che il nostro Ateneo riuscirà ad eliminare del tutto le barriere architettoniche, consentendo ad ogni studente di accedere tranquillamente in ogni aula.